E se ti dicessi che esiste una pillola talmente fantastica che ti può aiutare ad aumentare la concentrazione a breve termine, ti può aiutare a migliorare quello che è il focus nei compiti sia immediati sia quelli che dovrai fare tra tanto tempo. Quindi come si chiama questa pillola? Esiste veramente? Purtroppo non esiste, esiste qualche cosa di molto simile che ha questi stessi effetti che si chiama esercizio fisico. In questo video parliamo dei benefici mentali dell'esercizio fisico, dei benefici chiamiamoli invisibili perché quelli visibili possono essere il fatto di cambiare la composizione corporea, di sembrare più muscolosi, di essere più flessibili. Però oggi non parliamo di questo, parliamo dei benefici mentali e partiamo subito. Io mi chiamo Klaus, sono un fisioterapista e sono il fondatore di Fisiosocial. Voglio parlare di questi benefici perché spesso vengono un po' sottovalutati, si guarda sempre il fatto dello stretching, il fatto di avere mobilità, di avere flessibilità, di avere forza che vanno benissimo ma si perde un pochino quello che è un beneficio molto importante dell'esercizio fisico che è un esercizio anche mentale quindi non solo fisico. Ma vediamo subito questi benefici che magari ti possono dare la giusta motivazione per iniziare oggi a fare degli esercizi perché alla fine di questo video potrai andare nel link che ti lascio qua sopra per andare a vedere una sessione di esercizi che abbiamo fatto un po' di tempo fa. Ho pensato a questo video partendo dal fatto che molte persone quando vogliono approcciarsi al mondo degli esercizi partono un po' restivi proprio per il fatto che magari partono con qualche fastidio, con qualche doloretto, con qualche problema, ad esempio mi fa male la spalla ma ho un fastidio al collo, ho un dolore alla schiena, posso fare questi esercizi. E quindi c'è sempre questo grande punto di domanda sul posso fare o non posso fare. Noi siamo dei fisioterapisti e quindi questo è un po' il nostro pane quotidiano e quindi sappiamo benissimo quali sono gli esercizi che puoi fare e quali sono gli esercizi che non puoi fare. Quindi quello che mi ha spinto a fare questo video è andare a vedere quindi quali sono i benefici per darti un po' di motivazione sul fatto di iniziare a fare e poi alla fine ti darò un po' dei consigli su che cosa fare e che cosa non fare inizialmente se soffri di dolori o di acciacchi. Il primo beneficio è un beneficio immediato, subito dopo una sessione di allenamento, una sessione di esercizi vengono rilasciati neurotrasmettitori come la dopamina o come la serotonina che sono ormoni del buon umore e dello stato di benessere in generale. La serotonina è un ormone che viene rilasciato appena svegli che ci dà quella sensazione di benessere al mattino che purtroppo molte persone non riescono ad avere per diversi motivi. Invece la dopamina è l'ormone della felicità quindi ci dà questa sensazione di benessere e di felicità generale e chi è che non vuole sentirsi felice. Quindi ovviamente questo è un effetto a breve termine, un effetto che c'è subito dopo l'allenamento che ha una certa durata ma che ovviamente non può durare per anni, può durare magari per tutta la giornata, cosa che non è male perché fare magari 20-30 minuti di esercizi ogni mattina può darti questa immediata sensazione di benessere generale che poi può durare durante tutta la tua giornata. Il secondo beneficio invece è un beneficio legato al fatto dell'attenzione e del focus e in quest'era qua in cui l'attenzione è la risorsa più scarsa che abbiamo e Francesco ha fatto un video in cui parla di problemi di attenzione nell'era della distrazione proprio perché siamo distratti da tante cose trovi qua il video di Francesco in cui ti spiega che cosa fare per aumentare l'attenzione e tra le cose che puoi fare c'è l'esercizio fisico proprio perché lavorando sull'area prefrontale del nostro cervello si va ad aumentare quindi la quantità di connessioni neuronali e anche il volume generale dell'area prefrontale che è un'area deputata al mantenimento dell'attenzione e anche al cambiamento dell'attenzione quindi quando voglio cambiare da questo compito a quest'altro compito quindi l'attenzione divisa perché il multitasking vero e proprio non esiste esiste l'attenzione divisa cioè mi concentro per un tot di tempo su questo compito e poi switcho subito sull'altro compito quindi quello che fa l'esercizio fisico e questo effetto dura fino a due ore dopo la sessione di allenamento è stato provato quindi da alcuni studi che prima fanno allenare le persone gli sottopongono ad un allenamento ad una serie di esercizi fisici e poi dopo gli propongono dei test cognitivi per vedere come va la loro attenzione e infatti l'attenzione è stata aumentata sia quindi l'attenzione sul singolo compito mantenuta sia l'attenzione divisa per almeno due ore post allenamento e il terzo beneficio è quello sempre legato all'attenzione al focus ma non a breve termine ma a lungo termine l'esercizio svolto per molti anni per molto tempo va quindi a mantenere questo ampliamento dell'area prefrontale e dell'ipocampo che ci aiutano a sopportare meglio patologie come l'alzheimer ovviamente l'esercizio non cura l'alzheimer ma se si ha un'area prefrontale un ipocampo più grande quando e purtroppo se ci capiterà di avere l'alzheimer ci vorranno più anni e ci vorrà più tempo prima che le nostre risorse neuronali vadano a finire ok invece più quell'area lì è piccola e più farà in fretta a degenerare più farà in fretta a finire le sue risorse neuronali quindi insomma di benefici ce ne sono tanti ma il beneficio più importante di cui mi piace parlare molto è come questo cambiamento di umore questo cambiamento di benessere generale non influenza solo te ma influenza soprattutto soprattutto le persone che ti stanno vicino le persone a te care e pensa che spesso quando non abbiamo voglia di fare qualcosa per noi la motivazione dovrebbe anche arrivare da quello che dobbiamo fare per le persone che ci stanno vicino quindi se non vuoi fare gli esercizi per te pensa come questo cambierebbe in positivo pensa come questo cambierebbe in meglio la vita delle persone che ti circondano perché starebbero vicino a te che saresti una persona che sta la maggior parte del tempo di buon umore una persona positiva una persona che riesce a concentrarsi ad avere l'attenzione sulle altre persone e su quello che deve fare e quindi il miglior momento per iniziare a fare degli esercizi era ieri e se non l'hai fatto il secondo miglior momento è oggi quindi ovviamente prima inizi e meglio è e ora andiamo al dunque sul fatto dei dolori fisici molte persone infatti ci contattano proprio perché oltre ad avere quindi un dolore noi siamo dei fisioterapisti e quindi li aiutiamo tramite dei percorsi terapeutici personalizzati a risolvere i loro dolori gli aiutiamo anche a scegliere una certa attività fisica da fare gli aiutiamo a scegliere quale tipologia di esercizi devono seguire quale tipologia di esercizi invece devono evitare anche se non siamo tanto dell'idea che bisogna evitare le cose ma del costruire la capacità giusta per poter fare qualsiasi cosa nei limiti del normale quello che devi fare è iniziare per gradi non puoi iniziare domani a fare una maratona se hai dolore al ginocchio devi iniziare a rinforzare i muscoli devi iniziare a migliorare l'articolarità devi iniziare a migliorare la funzionalità del ginocchio in generale senza concentrarti troppo sulle piccole cose ma guardare più che altro il macro quindi guardare più che altro il grande quindi vedere di rinforzare tutto il corpo e poi gradualmente andare ad aumentare quindi non avere paura dei dolori spesso il dolore non è segno di qualche cosa che si sta danneggiando che si sta rompendo soprattutto quando il dolore esiste da tanto tempo quindi si parla di dolore cronico la causa del dolore vera e propria probabilmente già scomparsa da un po e quello che rimane è tutto un insieme di cose che comporta questo dolore e questo noi lo vediamo tutti i giorni quello che ti consiglio è di andare a vedere questi video qua in cui parliamo proprio di esercizi fisici generali per migliorare in generale le varie articolazioni in questa routine che ti lascio qua la prima che trovi vediamo una serie di esercizi che vanno a lavorare su tutti i distretti quindi puoi iniziare già a fare qualcosina per tutti i stretti del tuo corpo senza aver paura che possa causare più male di quello che hai già adesso e se questo ti interessa cioè ti interessa lavorare con noi iniziare un percorso con noi per combattere i tuoi dolori e migliorare quello che è il tuo stato di benessere e il tuo stato di forma fisico e mentale noi saremo contenti di aiutarti di guidarti trovi qua sotto il link oppure lo trovi qua in cui ci puoi inviare la tua candidatura con il tuo caso e ti sapremo dire il prima possibile se possiamo lavorare insieme o meno ti ringrazio per l'attenzione iscriviti al canale lasciaci un bel mi piace se questo video ti è piaciuto e ovviamente ci vediamo alla prossima